Sono quasi le 10 di sera quando arriva una chiamata di Sonia. Parla in un modo tutto diverso, non proprio allegra ma comunque animata, che è già una cosa eccezionale per come è lei. Poi conto un pulcino che ha appena appena cominciato a scalfire il guscio, più che altro un embrione di allegria. Ti disturbo? No, tranquilla, stavo cominciando a prepararmi qualcosa da mangiare. Vuoi che ti richiami più tardi? No, non c'è problema. Magari ti metto in viva voce così continuo a cucinare. Vai, dimmi. Ecco, per fare un esempio, non conosco nessuna altra donna che a questo punto non domanderebbe e che cosa stai preparando di buono, il che mi obbligherebbe a scendere nel dettaglio degli ingredienti e roba varia che non gliene frega niente a nessuno e poi dai coi consigli, farei così perché non fai in quest'altro modo e io dovrei far finta di stare ad ascoltare. Insomma, uno spreco di parole tremende, tutto un preliminare inutile prima di poter arrivare al tema vero e proprio che sarebbe poi la ragione per cui il chiamante ha chiamato e che magari ha urgenza di dire e che il chiamato comunque è impaziente di sentire così può ritornarsene a farsi i fatti suoi che sarebbe per esempio il mio caso stasera, visto che sto cucinando. Può essere, anzi è probabile, che Sonia non si inerpichi per questi sentieri secondari della conversazione per la semplice ragione che non è curiosa e certi particolari non le interessano. Ma ciò non toglie che i suoi modi un po' spicci sono uno dei motivi per cui quando vedo il suo nome sullo schermo del mio cellulare quasi sempre decido di rispondere. Siamo con Laura Morante che conclude con Brividi immorali tratto dal suo libro Il Fossombrone Teatro Festival 2018. Stasera per il Fossombrone Teatro Festival presenta due brani dal libro. Quali sono? Sono un interludio, diciamo quelli che io ho chiamato interludi, che in realtà perché il libro si compone è un'alternanza di racconti nel senso più tradizionale, cioè hanno una struttura diciamo narrativa più così appunto più classica se vogliamo anche se di classico e poi nel libro c'è poco ma insomma e si alternano quindi questi racconti a dei componimenti più brevi in generale che hanno una struttura anche non so come dire una musicalità anche diversa anche per quello gli ho dato una denominazione musicale che hanno proprio una lingua che io alla quale ho cercato in qualche modo di dare una musicalità e poi sono come degli apologhi, sono delle piccole favole morali e quindi stasera leggo un interludio che si chiama Tristezza per una zucchina e poi leggo un racconto che si chiama Colpo di Coda. Entrambi, non l'ho fatto apposta, entrambi sono per voce maschile, in realtà ce ne sono molti per voce femminile e alcuni che non hanno una voce narrante, però per caso la scelta è caduta su due voci maschile, me ne sono resa conto dopo. Che importanza ha la musica in questo reading? Beh, la musica sicuramente è un accompagnamento a quelli che sono i racconti della signora Laura Morante aiutano probabilmente a creare l'atmosfera che il racconto porta e lascia. Che brani ascolteremo? Prani che vanno da Bach, fondamentalmente dalle sui di Bach per Viva Uncello e poi musica Kletzmer che ho visto particolarmente legati come atmosfera e come sensazione ai pezzi che Laura reciterà, leggerà. Quindi c'è anche un rigore musicale accanto a quello della scrittura? Beh sì, io ovviamente ho letto i racconti di Laura e in base a quello che mi lasciavano come sensazione in quel momento ho scelto determinati pezzi. Probabilmente Elena ha capito dal tono della mia voce che non si trattava del solito vogliamo mangiarci un boccone di quando per esempio ho avuto una giornata troppo pigra o troppo scialba e non mi va di rimanere solo e da lei mi aspetto qualche battuta divertente su conoscenti comuni, qualche simpatica risata. Devo aver intuito che non è nemmeno la stessa cosa di quando mi metto a nutrire dubbi sul mio aspetto. Magari mi sento un po' abbrutito dopo qualche giorno che mi trascino per casa in canottiera e allora le chiedo di incontrarci da qualche parte dopo cena perché la prospettiva di sottopormi al suo giudizio estetico mi stimola piacevolmente ad esitare sulla scelta della camicia da indossare. Voglio precisare che è solo un esempio, io non ho camicia. Questa sera chiudiamo con la terza serata di questa splendida diciassettesima edizione che come ho detto altre volte è iniziata di venerdì 13 quindi abbiamo sfidato gli eventi ma abbiamo avuto tre bellissime serate con un tempo meraviglioso che ci hanno permesso di valorizzare al meglio il festival in questa splendida piazza. Questa sera chiudiamo con Laura Morante in Brividi Immorali, un reading musicale tratto da Brividi Immorali, raccolti e interludi di Laura Morante con Michela Munari al violoncello, ideazione e progetto è a cura di Elna Marazzita e invece la produzione e la distribuzione è di Aida Studio. Quindi chiudiamo in bellezza, un festival che si è connotato come sempre devo dire ormai da diversi anni riusciamo a fare con tre grandi serate, la prima con Paolo Sassonelli, Vinicio Marchione la seconda e Laura Morante la terza. Siamo particolarmente soddisfatti e già pensiamo all'edizione 2019 che dovrà vedere il festival puntare obiettivi sempre più ambiziosi. Buona serata e ci vediamo al Fossombrone Teatro Festival edizione 2019. Grazie a tutti e buona serata.